Si è aperta con il tradizionale concerto di Natale al Teatro Petrarca la stagione concertistica retina che propone nella sua terza edizione una serie di imperdibili appuntamenti dedicati alla grande musica classica e al balletto. Sul palco del Petrarca l'orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius con Alessandro Taverna al piano. La stagione concertistica prosegue il 27 gennaio all'auditorium Guido d'Arezzo Caurum Hall con l'orchestra del maggio musicale Fiorentino il 17 febbraio e invece al Petrarca sarà la volta del gala di danza.